Questa è la nostra miscela preferita, è facile da realizzare e veramente molto efficace. È la miscela per pulire i vetri. Prendiamo un contenitore spray e andiamo a mettere all'interno 250 millilitri di acqua. All'acqua aggiungiamo 100 millilitri di alcol, 100 di aceto bianco e 3 gocce di sapone liquido per i piatti. Chiudete il contenitore spray, adesso agitatelo bene e spruzzatelo su tutti i vostri vetri. Mi raccomando quando non c'è il sole e vedrete che con la carta di giornale passando sopra non vi verranno assolutamente più gli aloni e i vetri saranno puliti. E ricordatevi sempre di mettere un'etichetta con scritto la miscela che avete fatto, vi sarà utile quando la dovete trovare. E voi come li pulite i vetri nelle vostre case?